Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera, incominciamo già a essere tantissimi. Innanzitutto grazie, grazie a tutti per questa partecipazione e questa adesione, questo interesse. Abbiamo da poco trascorso insieme due giornate straordinarie a Bologna e adesso incominciano gli upgrade, come si dice, l'approfondimento continuo in questo meraviglioso mondo che è il supporto, la prevenzione, l'informazione, l'epigenetica, non si finisce mai. Io direi che da ormai questi 25 anni nella nutraceutica, nell'ossigenazione, poi ultimamente da sette anni con la tecnologia S-Drive, mi sono accorto che veramente c'è un gap enorme da colmare che è quello tra la teoria, la pratica, l'approccio critico integrato e quando poi parliamo di epigenetica e quando vedo i risultati che hanno i professionisti che stanno utilizzando questa tecnologia, devo dire che sono molto grato di aver iniziato a condividere questo percorso, questo progetto. è un progetto importante, naturalmente come dico sempre che ognuno di noi deve fare i compiti a casa nel suo piccolo perché se non facciamo i compiti a casa non ne usciamo, nel senso che questo è un mondo dove c'è una continua e importante apertura di possibilità di pensare alla nutrizione, la nutraceutica, l'intossicazione ambientale, le varie discipline mediche e nel campo della nutrizione poi sappiamo quanto sia importantissimo fare come nella medicina, come comunque avere un approccio clinico che possa essere più personalizzato possibile. Bene, allora introduciamo perché alcuni di voi sono nuovi, io introduco e poi vi presenterò un po' di novità, dopo l'introduzione come sapete c'è la formazione di Marco Stanton e ho la fortuna stasera di essere affiancato da una grande professionista, un medico, ma una carissima amica che è Simona, quindi Simona grazie veramente di cuore di questo supporto e so quanto tu sei veramente straordinaria quando traduci dall'inglese all'italiano. e poi conoscere la materia sicuramente avvantaggia tantissimo. Quindi detto questo introduco l'argomento, lo introduco partendo da un... Scusate, non c'è un problema... Partendo da un fatto che nonostante noi continuiamo nel nostro percorso a ascoltare tantissime possibilità di intervenire per curare, quello che pochissimo facciamo è parlare di prevenzione. Poi pensate se è vero che comunque l'epigenetica è una delle più importanti possibilità di fare prevenzione, perché l'eredità epigenetica è un dato di fatto ormai, ormai questa è scienza. Ma siamo portati a non parlare di cause. C'è pochissimo si parla di cause o probabilmente delle cause che noi immaginiamo, ma poi alla fine non nasciamo tutti uguali, non mangiamo le stesse cose, non viviamo nello stesso ambiente, le emozioni sono fondamentali, e quindi c'è una differenza abissale tra una persona e un'altra persona. Perché poi dobbiamo parlare non di malattie, ma dobbiamo parlare di persone. Quindi se parliamo di persone, amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. Uno dei corsi più belli che ho fatto proprio recentemente, alcuni di voi c'erano, quello con Bruce Lipton che dice la mente è più forte dei geni. Però uno dei miei maestri più grandi è stato il grande Sergio Stagnaro, che è uno dei padri della medicina, padre della medicina, a cui ho fatto l'attributo proprio l'anno scorso al congresso internazionale a Bologna, diceva, guardate, che le persone nascono con reali rischi epogeni, quelle che poi si ammalano. Nascono con una costituzione che può essere reumatica, che può essere oncologica, il terreno oncologico, aperto un mondo. Veramente dico, ma come mai queste cose poi non vengono trasmessi? Nel condividere e nell'approfondire, nello studiare, mi sono imbattuto in questo importante messaggio, adesso non l'ho messo tutto perché avrebbe portato via molto tempo, ma questo, guardate, la Fondazione Umberto Veronese nel progetto STEM proprio per le nuove scienze, le tecnologie, l'ingegneria, la matematica, guardate di cosa parlava e di cosa parla di DNA epigenetica e prevenzione. E qui, dalla teoria, alla pratica clinica, c'è un abisso. Perché se è vero che il corpo umano dà gli organi al DNA, che il nostro organismo costruito da organi, ognuno con la sua funzione fondamentale per la nostra vita, che gli organi, una volta, sono fatti entità ancora più piccole e le cellule, chi è che si occupa veramente della salute a livello cedullico? Siamo abituati a occuparci di un fegato, di un cuore, di una milza, voi medici lo sapete molto bene, però il problema è che abbiamo un'eredità epigenetica. Il fatto proprio che fino a pochissimo tempo fa si parlava, guardate qui cosa si dice, diversamente da quanto si potrebbe pensare, bene il 98-99 del DNA umano non contiene geni codificanti. cioè loro già, la fondazione Veronesi parla del 98-99% e questo fino a poco tempo fa veniva chiamato DNA spazzatura. Cioè, stiamo parlando quindi di qualcosa di importante quando parliamo di epigenetica e quindi la possibilità proprio di questa azione regolatoria di questi dei fattori epigenetici. Quindi medicina di regolazione, alcuni di voi la conoscono molto bene. Bartormeo Allegrini sarà con noi più tardi, parla sempre di regolazione. e quindi la possibilità attraverso la ricerca scientifica e le scienze e la nutrizione che possiamo sapere quali alimenti fanno bene, cosa sarebbe meglio evitare, cosa dobbiamo mangiare con moderazione. Bene, la domanda che io faccio sempre a professionista dico bene, oggi che strumenti hai per sapere quali alimenti fanno bene a quella persona? Possiamo fare, alcuni di voi li fanno, test di intolleranze alimentari, hanno delle problematiche anche queste. Uno dei grandi esperti del sistema gastrointestinale, il grande Guido Marini ve lo dice sempre, insomma, non è così facile trovare quello che serve a quella persona, anche l'abbiamo visto anche col microbiota, quanto questo può essere complicato poi arrivare a una soluzione al problema o alla causa. Quindi si apre un mondo. È vero che conoscere come quello come quello che mangiamo può agire sul nostro DNA e quindi sul funzionamento delle nostre cerve è fondamentale per fare prevenzione e restare in salute il più a lungo possibile. Ma come facciamo? Noi dobbiamo assolutamente entrare in un approccio personalizzato, individuale. Quella persona vive e mangia in quella casa, in quel posto, in quella mensa, in quel ristorante. non siamo tutti uguali. Guardate PAMED quando parliamo di epigenetica nei lavori pubblicati ci dice che sull'epigenetica dell'invecchiamento ormai siamo oltre gli 8.000 ma siamo a 9.000 10.000 siamo a 140.000 5.000 lavori scientifici sull'epigenetica se poi mettiamo l'inquinamento provate ad andare su PAM descriver Pollution vi escono 450.000 lavori scientifici sui danni da inquinamento guardate i lavori scientifici sull'epigenetica dal 58 a oggi e ancora sui fattori epigenetici 54.000 lavori scientifici allora quando io sento parlare e obiettare sul fatto che non è scientifico io dico allora cos'è scientifico fatemi capire cos'è scienza allora queste cose le conoscete tutti c'è un problema di base che però è che tutti questi fattori oggi sono altamente contaminati basti pensare al fatto che in alcune zone lo conoscete bene che è nel nord Italia Trento Padova dove volete oppure la zona dove fanno il prosecco sapete cosa fanno per settimane quando incominciano a passare con questi disinfettanti pesticidi conservanti e di tutte di più pensate che un ve la do per così magari non lo sapete un mio carissimo amico che c'è un'azienda molto importante dove estraggono dell'olio dagli acini di uva dai chicchi proprio d'uva mi dice che dentro a un semino a un acino d'uva ci sono oltre 250 sostanze chimiche tossiche lo sapevate non lo sa nessuno e che alcune di queste sostanze non vengono non riescono neanche con potenti tecnologie vapori estrazioni non riescono a toglierle e difatti mi ha detto noi che sappiamo questo non mangiamo più uva e né fragole perché più o meno hanno le stesse sostanze tossiche per l'organismo ecco vi do solamente questo quindi capite che tutti questi fattori non sono più di quelli di 100 200 300 anni fa basti pensare al fatto che di ossigeno non se ne parla per niente eppure diamo premi nuova alla medicina sull'oro dell'ossigeno ma a scopo preventivo non ne parla nessuno ti danno l'ossigeno quando sei in fin di vita nel letto o in ospedale sì o no oppure a casa perché non puoi respirare e a scopo predittivo preventivo se è vero che le malattie iniziano a livello cellulare che noi è proprio su questo sulle cellule questo ma lo insegnate tutti delle varie tipi di cellule che si moltiplicano perché il DNA come ci insegnava da sempre ci ha insegnato il grande professore Ernesto Burgio il DNA non cambia da 4 miliardi di anni non sbaglia perché se no noi non saremmo umani quelli che siamo il DNA non sbaglia quando il DNA quando la cellula si moltiplica e il DNA è sempre lo stesso quando si differenzia il DNA è sempre lo stesso se no non potrebbe fare quelle cose siete d'accordo su questo? allora se questo è vero vuol dire che il problema sta nella perdita dei fattori di correzione epigenetici e dall'ambiente epigenetico dove queste cellule e l'ambiente dove si sviluppano è un dato di fatto il DNA non cambia è sempre quello e allora mettendo assieme questo puzzle di quello che noi mangiamo beviamo e respiriamo e tutto quello che serve per far funzionare la cellula e il motore della cellula di cui se ne parla poco da un punto di vista poi clinico perché di mitocondri se ne parla poco ti do la nutrizione ti do il cibo buono ok ti cambio l'alimentazione però poi se le cellule non funzionano se le cellule non consumano l'ossigeno cosa accade? accade che il mitocondrio che la cellula il mitocondrio di quella cellula ha una disfunzione mitocondriale DNA mitocondriale dalla nascita ereditaria linea materna che non mi utilizza meglio l'ossigeno e quindi quell'ossigeno non consumato si trasforma in eccesso aumento di radicali liberi infiammazioni ecco perché è fondamentale riequilibrare la carenza di ossigeno in livello cellulare e attivare l'ATP non solo con la nutrizione ma con dei fattori specifici che siano in grado di reattivare i mitocondri perché poi alla fine l'eredità leva mitocondriale qui la Simona lo sa bene è lì il mitocondrio linea materna il padre il mitocondrio gli serve per procheare per far arrivare lo spermatozoo guarda caso siamo a un 70% di infertilità perché i mitocondri non hanno più mobilità degli spermatozoi ce lo insegnava Luigi Montano proprio al congresso e ai vari seminari quindi sappiamo benissimo tutto questo ma allora cosa stiamo facendo per le nostre future generazioni per evitare proprio per capire le cause che strumenti oggi e io la domanda che faccio ai professionisti è che strumenti abbiamo oggi a disposizione per lavorare su questi fattori dalle sostanze chimiche i metalli pesanti tutto quello che sapete benissimo idrocarburi le muffe l'elettrosmog le radiazioni è un ruolo importante io faccio sempre vedere l'acquario come no dire beh viviamo in un acquario ma anche le nostre cellule vivono in un acquario noi a questi pesciolini dell'acquario non ci daremmo mai la coca cola la nutella lo zucchero e tutto quello che diamo ai nostri figli e a noi stessi eppure come mai basta andare in supermercato trovi sicuramente cibi incompatibili con la vita io non so voi come ne pensate ma secondo me sono cibi incompatibili con la vita non c'entrano niente con la natura non l'ha fatta la natura quei cibi lì l'hanno fatta sostanze chimiche aggreganti conservanti aromi naturali zuccheri sale a chili per per creare appetito è chiaro che poi intossichiamo la matrice exacellulare è chiaro che poi non arriva l'ossigeno basti pensare che nutrienti sono segnali epigenetici e di questo se ne parla pochissimo eppure gli studi ormai sono tantissimi ma vi ho portato questo studio ultimo i microRNA negli alimenti beh guardate il ruolo dell'alimento di qualsiasi sostanza abbiamo fornito una visione completa aggiornata dell'attività della microRNA di devoluzione alimentare nella salute e nella malattia umana segnalando sia le questioni benefiche che quelle controverse come regolato le condizioni croniche proprio sì ormai che aumentano quindi lo sviluppo di diabete dell'insulina resistenza dell'obesità ormai questo è chiaro per tutti di quanto il ruolo dei nutrienti sia un fattore epigenico beh noi oggi abbiamo la possibilità di capire in maniera personalizzata individuale basti pensare a quello che mi chiede sempre Simona mi raccomando ricordalo sempre la tossicità del bisfenolo A per l'EFSA distruttore endocrino interferente endocrino danneggia il feto già dentro a livello dentro all'ultimo nella pancia della mamma sprogramma la vita e noi ce ne scordiamo non ce ne prendiamo conto di quanta plastica stiamo mettendo negli oceani siamo a 1.24 anzi 1.20 ultimi dati di Luigi Montano microplastica nelle urine nella placenta e nello spero 1 su 36 bambini autistici e questo è quello che da sempre leggiamo nelle pubblicità di giornali riviste articoli ogni congresso c'è qualcuno che fa vedere questa foto il dna non è il tuo destino ma poi cosa facciamo cioè cosa abbiamo fatto se abbiamo 40% di malati cronici cosa abbiamo fatto abbiamo il 40% di malati cronici nella popolazione 24 milioni italiani allora c'è un problema e guardate io adesso il 21 ho l'onore proprio sabato di parlare a Cremona a un congresso dei medici del COS di medicina generale e a presentare proprio questa tecnologia perché mi hanno detto noi abbiamo non sappiamo più cosa fare nonostante le cure i farmaci abbiamo 24 milioni di italiani malati cronici con tutte queste malattie e non sappiamo più come fare come risolvere i problemi perché ci sono anziani lo sapete bene che prendono anche 10 12 14 farmaci gli ne diamo un in più 15 arriviamo a 16 e poi con una qualità della vita veramente precaria spesso quindi se è vero che l'epigenetica è un software è il software della nostra vita è la possibilità di riprogrammare le nostre cellule è chiaro che dobbiamo fare scelte avere scelte fare scelte consapevoli in grado di programmare e riprogrammare in maniera ottimale le nostre cellule il rimodolamento della cromatina se un tossico si lega all'istone questo blocca l'asnotolamento del DNA se questa è cronica è chiaro che inizia la malattia ma facciamo i sommi la somma visto che la somma fa sempre il totale di mettere insieme quello che abbiamo detto fino adesso carenza di ossigeno disfunzione mitocondriale eredità epigenetica reali rischi congeniti costituzione dalla nascita interferenti endocrini inquinamento cibo spazzatura allora ce lo dicono loro l'associazione italiana ricerca sul pancre ce lo dice chiaro che l'epigenetica studia proprio queste problematiche ma quando è troppo tarde perché io fino adesso leggendo certi studi gli dico ah il fumo fa male bene allora devo incominciare ad andare nelle scuole incominciare a far capire alle persone quanto faccia male il fumo oppure l'alcol non trovarmi con i ragazzini di 13 anni che oggi sono in discoteca e bevono come spugne si fanno l'aperitivo allora anche la metabolomica ci può dare una mano sapete al nostro congresso abbiamo avuto l'onore di avere il numero uno due al mondo sulla metabolomica il grande professor eh Vassilio Sfanos che ci ha invitato a presentare in quattro ore eh di lezione una sessione proprio nel suo congresso internazionale a Cagliari eh proprio a ottobre per parlare di questa tecnologia e dei casi critici quindi incomincia a esserci un grosso interesse perché perché la metabolomica è come anche qui noi facciamo molto più precisa chiaro ma facciamo sempre un'analisi per capire il problema per conoscere i problemi ma le cause no perché facciamo tutto questo profilo ma poi non sappiamo le cause ecco perché dobbiamo unire i puntini senza escludere uno o l'altro ma unire le forze oltre che puntine per fare prevenzione per evitare di fare diagnosi di malattie cominciamo a evitarle non so se siete d'accordo conoscere i fattori che proteggono basta pensare all'invecchiamento alla rimettilazione del DNA e i fattori che ci danneggiano incominciare a parlare di rimettilazione del DNA e quindi di carenze prima che ci sia un problema ecco perché l'S-Drive è importante perché l'S-Drive è costruire la salute della cellula andare a vedere cosa accade dentro la cellula per capire le esigenze della cellula prima che poi vediamo il problema a livello magari ematico nel sangue oppure vediamo il sintomo perché vedete l'omocisteina è chiaro che noi sappiamo che la possiamo controllare con il giusto apporto di TNB-B6 folati B12 metionina pensate quando sia importante capire magari con il test S-Drive probabilmente c'è questa carenza come clinico o come nutrizionista puoi pensare di lavorare con un giusto apporto nutrizionale poi sappiamo che c'è anche l'integrazione eccetera perché la stessa premio Nobel la medicina ci parla di questo ci parla di quanto questo aspetto dei vari fattori accorcino il i telomeri già dentro la pancia della madre pensiamo quanti danni stiamo facendo quindi tutto questo da distruttore endocrine sostanze chimiche particolato sprogramma la vita a livello fetale il fumo sembra che sia diventato di moda un'altra volta con i vari svapo eccetera perché non capiscono che questo è veleno per le future generazioni che passerà nel latte materno Simona poi lo sa bene anche durante l'allattamento durante il dono della vita al momento del concepimento tutto quello che hai fatto prima passerà alle future generazioni seconda terza quarta quinta sesta settima generazione questa è l'epigenetica e ce lo dice l'associazione italiana di ricerca sul cancro andate a vedere poi danni da campi elettromagnetici che sono diventati babysitter basti pensare che guai a non dormire col cellulare sul pomodino o magari sotto il cuscino perché bisogna addormentarsi con l'ultimo messaggio quindi tutti i danni che facciamo ai bambini che si sviluppano in un ambiente che è incompatibile con la vita a certe frequenze così forti come il 5G direttamente da wifi dove vivono questi bambini dalla pancia della mamma anzi dall'ovulo alla vita guardate che impatto che hanno ma i studi questi studi che qui cominciano a venire fuori dicendo c'è un aumento delle persone elettrosensibili dell'aumento dell'infiammazione danni ai mitopondri infiammazione e malattia come diceva e dice sempre il professor Burcio dice attenzione questi danni li vedremo tra 5, 10, 15, 20 anni ecco perché poi vi dicono non è dannoso il cellulare vediamo cosa cosa ci sarà tra 10, 20 anni ma giochiamo con una roulette russa ne vale la pena di poi scoprire dei danni che abbiamo fatto alle future generazioni dall'utilizzo che già abbiamo visto può danneggiare moltissime anche dal punto di vista del neurosviluppo come ci insegna la professoressa Lucangeli le future generazioni danni ai mitocondri quindi ricaricare le batterie mitocondriali la carenza di ossigeno lo dicevo prima se ne parla pochissimo dei modulatori fisiologici voi sapete da sempre di ossigenazione con il self non so se alcuni di voi lo conoscono lo utilizzano nella clinica beh è un prodotto veramente straordinario se volete approfondire sono a vostra disposizione però stasera parliamo di epigenetica quindi un uomo saggio evita i problemi quindi la medicina personalizzata predittiva preventiva e partecipativa deve assolutamente incominciare a parlare del fatto che da sempre noi abbiamo strumenti come la risonanza magnetica nucleare che utilizza una tecnologia che è chiamata biofisica bio risonanza magnetica non tocchiamo il paziente eppure gli facciamo gli mandiamo un campo magnetico da 10 a 15 mila volte superiore al campo magnetico terrestre per avere un referto che poi deve essere interpretato da un esperto che è un radiologo questa è medicina quantistica è biofisica o vogliamo parlare dell'ecocardiogramma anche questa è biofisica sono onde o l'elettrocardiogramma che misura i battiti cardiaci e le frequenze del cuore anche questo mettiamo degli elettrodi allora incomincio a dire ma è possibile che ci sia uno scollegamento così c'è chi guarda la biochimica chi guarda la biofisica chi dice no la biofisica non esiste e poi per iscrivere l'elettrocardiogramma che misura delle onde io a volte ci ragiono e dico ma è possibile che ci sia questa sconnessione scollegamento del funzionamento delle nostre cellule che poi alla fine hanno un potenziale elettrico che se si inverte come potenziale elettrico il grande Giuseppe Napoli ha fatto una lezione meravigliosa a Bologna anche su quanto sia fondamentale guardare le persone da un punto di vista bioelettico della funzionalità delle cellule e degli apparati dell'organismo beh abbiamo questi arnesi infernali come funziona? anche questo è biofisico ecco che l'epigenetica ci permette di intercettare i fattori epigenetici e questa è la tecnologia per un supporto clinico per la prevenzione per le cure personalizzate ma già la professoressa Ferrante dell'Università di Padova ci dice attenzione la materia vibra ha una vibrazione ha una lunghezza d'onda ha uno spettro se tu conosci lo spettro di quelle sostanze risale la sostanza ed è quello che noi facciamo con la tecnologia utilizzando un biomarker ormai molto importante e il più affidabile è quello che contiene archivia le informazioni per più tempo se voi andate a misurare il per esempio il cortisolo nel sangue e nella saliva si cambia velocemente invece il capello archivia queste informazioni con presi metalli pesanti e varie altre informazioni per lungo periodo in questo caso si dice da un minimo di 90 giorni però hanno visto gli studi che può archiviare anche fino a 6 mesi pensate questa è la tecnologia S-Drive un dispositivo in grado di fare una scansione sul sul bulbo del capello che vi ricordo è un test in vivo non è in vitro perché io lo faccio entro un minuto questa scansione e non vado solo a mappare i fattori epigenetici del capello ma anche del bulbo del capello in grado di mappare 800 fattori chiave che possono essere utili nell'approccio clinico integrato come indicatori per migliorare l'anammesi del professionista non è una diagnosi la diagnosi fa il medico però questo è un biomarker interessante viene utilizzato per l'esposoma delle persone viene utilizzato per è connesso alla nostra matrice quindi è un'antenna tra il micro e il macro ambiente la NASA utilizza i capelli per la salute degli astronauti è possibile che ancora non venga preso adeguatamente in considerazione in un approccio clinico anche questo come esame viene utilizzato per i disturbi psichiatrici il bulbo del capello guardate questi sono studi c'erano tantissimi abbiamo preso uno a causa della natura retrospettiva accumulativa del cortisolo nei capelli la valutazione e la concentrazione di cortisolo nei capelli può aiutare a rispondere alle domande senza risposta riguardando l'iperattività dell'asse ipotalamo ipofisi sul reno e le conseguenze sulla salute associata agli disturbi psichiatrici pensate quanto questo biomarker sia interessante e importante basta pensare che adesso stiamo facendo degli studi anche sui centenari lo sapete bene per capire macro micronutrienti carichi tossici quindi tutti questi fattori epigenetici vitamine minerali le loro azioni gli acidi grassi essenziali il sistema antiossidante il sistema gastrointestinale pensate quanto sia oggi fondamentale capire le post virosi le virosi risalire l'epstem bar citomegalovirso eccetera beh qui vi pone vi dà delle priorità di intervento attenzione per intervenire in maniera ottimale personalizzata soprattutto sui carichi tossici guardate qui sostanze chimiche drocarburi radiazioni sulle interferenze da campi elettromagnetici e questo penso che sia fondamentale chi ha dei figli sa quanto questi aggerenti infernali stanno avendo il sopravvento sulla loro vita eppure noi siamo diventati forse incapaci a dire di no non lo utilizzi non te lo do no il professor fiorenzo marinelli che sarà nella nostra scuola di alta formazione dice dovrebbe essere vietato fino ai 14 anni pensate dove stiamo arrivando naturalmente questo test ha tutte le certificazioni per promuovere buona salute un sano e uno stato di vita motivare incoraggiare sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere la diagnosi la fa il medico quindi report per personalizzati voi avete a disposizione il sistema immunitario il test per il metabolismo per lo sport per il nutrizionista per la medicina estetica per pelle, capelli e unghie insomma abbiamo per i bambini addirittura stiamo entrando nella veterinaria per cani e gatto abbiamo anche quello per i cavalli quindi pensate come si sta aprendo questo mondo è in 75 paesi nel mondo ormai la tecnologia S-Drive finisco con un grazie veramente di cuore alla professoressa FENU e al Benedetta per il grande supporto con l'Università di Sassari in collaborazione con l'Università di Cagliari dove stiamo utilizzando per varie ricerche scientifiche questo test compreso questa mappatura sui centenari che ci sta dando grandi soddisfazioni l'abbiamo poi messo questo dispositivo nel centro di ricerca del poligono di difesa con ricerca scientifica della salute degli astri un omaggio al grande Antonio Poviello un supporto straordinario per la scuola di alta formazione e voi l'avete sicuramente sentito al telefono e qui è quando abbiamo proprio consegnato questo dispositivo nel polo di ricerca universitario la presentazione della professoressa Feno davanti a oltre 400 persone nella sala del polo di ricerca dell'Oiastra aperta a default dove abbiamo proprio presentato questo sistema e ultimo vi dicevo dei medici di famiglia che hanno scelto questo dispositivo per fare ricerca scientifica incominciare a portare questo dispositivo nei medici di famiglia per fare prevenzione per capire quanto queste pazienti siano carichi da danni da carichi ambientali insomma pericolosi test epigenetiche per valutazione e impatto ambientale questa è la presentazione del presidente nei vari congressi il meccanismo epigenetico per fortuna è reversibile perché l'epigenetica scrive a penna l'epigenetica a matina quindi noi abbiamo una scelta una scelta consapevole da poter condividere con i vostri pazienti che possono sicuramente capire non solo se mangiare bene o no ma capire se vivono in un ambiente sano o no perché conoscere i danni ambientali nei luoghi di vita di lavoro è fondamentale dove si vive dove si lavora dove si dorme senza dimenticarci che tutto quello che facciamo può avere un senso se lo facciamo con amore con bontà con rispetto con un'alleanza di cervelli ecco noi l'obiettivo di questa serata di questi congressi di questa formazione compreso la scuola di alta formazione è quella veramente di unire le forze grazie veramente di cuore a tutti penso avevo detto 30 35 minuti grazie a tutti